I tuoi figli probabilmente non vedranno mai Venezia. Gondole, ponti, edifici storici e maschere di carnevale. Queste sono alcune cose che hanno reso famosa Venezia, una delle città italiane più conosciute ed imitate nel mondo. Ogni anno la città attrae migliaia di turisti incantati dalla Basilica di San Marco, dal Ponte del Rialto e dal Palazzo Ducale. Ma questo non durerà per sempre. In qualsiasi periodo dell'anno la si visiti Venezia regala atmosfere magiche e romantiche. Arrivare in città significa perdersi fra calli e sestieri, farsi incantare da chiese e palazzi storici, incontrare artigiani che creano maschere o lavorano il vetro soffiato da generazioni. Tutte queste bellezze però potrebbero presto scomparire. Intorno al 2054, infatti, Venezia potrebbe venire completamente sommersa dall'acqua. Vari istituzioni hanno dato l'allarme nel corso degli anni, ma la scorsa estate l'UNESCO ha fatto un passo avanti, proponendo di inserire Venezia nella lista dei patrimoni in pericolo. E la città l'ha scampata per un pelo. Soltanto la proposta di dichiarare ufficialmente che Venezia è a rischio ha generato un'allevata di scudi, ma la verità è che il capoluogo veneto è sempre più fragile, menacciato dal fenomeno noto come overtourism, cioè dall'eccesso di turisti che la visitano, e dal cambiamento climatico, come l'inalzamento del livello del mare. Approfondiamo insieme i problemi che potrebbero far sparire Venezia, una realtà unica al mondo perché è costruita interamente sull'acqua. Partiamo proprio da qui. La caratteristica più sensazionale di Venezia è proprio la presenza costante dell'acqua, che si snoda in vari canali, dal famoso Canal Grande al rio Cafoscari, circondati da sontuosi palazzi, chiese eleganti ed edifici storici. Ma come mai a Venezia si è costruito sull'acqua? Qual è stata la ragione che ha spinto le persone a sfidare gli elementi, decidendo di trasformare una laguna in una splendida città? La risposta sta nel periodo delle invasioni barbariche. Molti abitanti della zona si rifugiano in quella che sarebbe diventata Venezia per proteggersi dagli invasori. Le orde barbariche erano terribilmente violente e non lasciavano scampo. L'idea di spostarsi in un luogo difficilmente attaccabile come la laguna fu alla fine vincente. E nelle varie isolette iniziarono a crearsi delle piccole comunità. Quando le invasioni finirono, però, gli abitanti della laguna decisero di non abbandonarla. Anzi, si impegnarono a far evolvere l'insieme di edifici in qualcosa di più. Ed ecco la chiave sensazionale della nascita di Venezia. Non è nata come paese che si è espanso piano piano generando la città, ma come un insieme di 118 isolette che si sono unite in un unico centro urbano servendosi di ponti e passerelle, che al giorno d'oggi sono più di 400. La distesa d'acqua che un tempo proteggeva i veneziani dai barbari è diventata la risorsa più importante della città. Nel tempo Venezia è diventata capitale del commercio del Mediterraneo orientale, affermandosi come Repubblica Marinara, potente in guerra e in pace grazie alle flotte militari commerciali. Immagina la bellezza di una città che nasce e che si riempie di chiese, botteghe e infrastrutture, di splendidi palazzi e alti campanili. Ma come fanno a reggersi in piedi? Come è stato possibile costruire edifici straordinari come la Basilica di San Marco senza che affondassero nell'acqua? I veneziani hanno fatto un vero capolavoro d'ingegneria. Infatti hanno usato delle fondamenta basate su pali di legno piantati a una profondità di circa 7 metri che affondavano nello strato più solido e compatto di argilla sedimentosa. Il caranto. Costruire sul caranto aveva un grande vantaggio. Il fango salino che circondava i pali uccideva i batteri che ne avrebbero causato la corrosione. In pratica li pietrificava. Gli spazi fra i pali erano poi riempiti da cocci e cemento e sulla sommità venivano poste lastre di legno su cui poi poggiavano le fondamenta vere e proprie. Gli edifici poi sono costruiti in pietra distria perfetta per Venezia perché è poco porosa e altamente impermeabile. Ecco perché questa pietra è sempre presente almeno nel piano inferiore. Non serviva solo a proteggere gli edifici dall'acqua granda cioè l'alta marea ma anche dall'umidità di risalita. I mattoni laterizi infatti risentono dell'umidità e del salmastro che assorbono dalle fondazioni. Il sale evapora, si attacca ai muri e si cristallizza aumentando il loro volume. Se un tempo lo strato di pietra distria bastava a tutelare gli edifici dall'alta marea ora non è più così. Nel corso degli anni infatti Venezia non ha iniziato solo a sprofondare a causa della subsidenza un fenomeno naturale che vede la città abbassarsi a causa della compressione dei sedimenti, delle fondamenta ma anche a causa della minaccia del cambiamento climatico. Maree estremamente alte o basse infatti sono diventate più frequenti come la devastante acqua granda del novembre 2019 che ebbe un picco di altezza a 187 centimetri causando danni ingenti alla basilica di San Marco dove fu inondata la cripta nonché ai palazzi storici e alle botteghe come la famosa libreria dell'acqua alta che ha perso in poco tempo centinaia di libri. Non è solo l'alta marea a danneggiare la città ma anche il suo contrario la bassa marea con i canali più piccoli ridotti ad un rivolo fangoso e le barche in secca. La minaccia dell'inalzamento generale del mare dovuto ai cambiamenti climatici sembra incombere sul futuro di Venezia. Uno studio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia trovate il link in descrizione se volete approfondire prevede che entro il 2050 il livello del mare potrebbe alzarsi dai 20 ai 40 centimetri. Ma non tutto è andato perduto. Un esempio dal 2020 è stato finalmente attivato il MOSE cioè un sistema di paratoie mobili che fungono da dighe per proteggere la città dall'alta marea. La costruzione di questa infrastruttura è stata lunga e chiacchierata. I primi prototipi furono presentati al governo già nel 1988 e come potete immaginare ci sono voluti molti anni per costruirlo fra mille polemiche a causa non solo di scandali politici e finanziari ma anche degli altissimi costi di produzione attivazione e manutenzione. Nel 2023 il MOSE è stato attivato ben 36 volte con un costo di 200.000 euro ad alzata. Insomma il MOSE resta un'infrastruttura controversa che al momento però sembra funzionare seppure ad un costo decisamente alto. Come ho accennato prima l'alta marea non è l'unico fenomeno che minaccia Venezia perché molti danni gli sta facendo il turismo. Venezia è una meta rinomata fin dal 1700 quando i giovani nobili europei venivano in Italia a fare il Grand Tour per istruirsi e vedere dal vivo le bellezze del nostro paese. Ma da allora le cose sono molto cambiate. Purtroppo Venezia è il perfetto laboratorio per analizzare questo fenomeno. Un fenomeno che sta portando negli anni le città d'arte a perdere la propria identità per trasformarsi in una sorta di Luna Park della storia e dell'arte. La nascita e l'affermazione degli alloggi privati prenotabili su internet ha portato molti proprietari a rinunciare ad affittare le proprie case a lavoratori e studenti sostituendo un affitto prolungato a quello mordi e fuggi dei turisti più redditizio e meno problematico. Così frotte di studenti dell'università Ca' Foscari e di lavoratori si ritrovano a non trovare più un posto dove vivere finendo spinti fuori dalla città che sembra sigillata ad uso e consumo del turismo di massa. Pensate che si calcola che ogni anno Venezia perda 1200 residenti un numero destinato a crescere se non si interverrà sui costi economici e sociali di vivere nella Serenissima. Anche molte delle botteghe storiche che rendevano Venezia una capitale dell'artigianato sono diventate purtroppo un ricordo. In molti casi hanno lasciato il posto a ristoranti turistici e negozi di grande catene che possiamo trovare ovunque. La vita quotidiana a Venezia sta poi diventando sempre più difficile. Gli articoli di giornale denunciano continuamente turisti maleducati protagonisti di episodi di schiamazzi e vandalismo che esasperano i veneziani. Ma l'arrivo di così tante persone ha portato anche ad un aumento dell'inquinamento specialmente per quanto riguarda il consumo di plastica. Si calcola che ogni anno a Venezia si vendono più di 50 milioni di bottigliette di plastica che purtroppo finiscono spesso nei canali andando ad inquinare la laguna. La risposta di Venezia a questa invasione turistica però è lenta e faticosa. Un primo risultato è stato raggiunto nell'estate 2021 quando il governo ha impedito alle grandi nave da crociera di attraversare il Canal Grande ma è ancora permesso a quelle di medie dimensioni. La misura è stata al centro di molte polemiche anche se i comitati di cittadini e di ambientalisti hanno evidenziato per anni i rischi ambientali per il passaggio delle grandi navi. La risposta governativa è stata cauta per molto tempo sia per le pressioni del comparto sia per l'assenza di un appiglio normativo che tutelasse nei fatti il canale. Trovato poi dichiarando monumenti i luoghi vicini. Un'altra misura proposta per limitare il turismo ha dell'incredibile. Sto parlando dell'introduzione di un biglietto per entrare in città. Da quest'anno in alcune giornate 29 per la precisione quelle in cui è previsto un maggiore afflusso di turisti si dovrà pagare 5 euro per entrare a Venezia. L'idea era di mettere un deterrente economico per evitare di affollare Venezia nelle giornate più gettonate ma il rischio che questo intervento non funzioni è alto. Il biglietto riguarda infatti solo le persone che intendono visitare Venezia in una sola giornata ma ne sono esenti i turisti che pernottano in città e ovviamente i residenti studenti lavoratori e chiunque venga a Venezia per un motivo diverso dal turismo come visite mediche o ritrovi con i parenti. Non sembra quindi che queste iniziative stiano riuscendo nell'obiettivo di scoraggiare il turismo da toccata e fuga alla serenissima specie in luoghi iconici come San Marco il Rialto o Ponte dei Sospiri sempre più presi d'assalto da orde di turisti che rischiano di distruggere la città ma cosa succederebbe se Venezia davvero sparisse? Temo che dovremmo rassegnarci a visitare le sue riproduzioni scommetto infatti che non sapete che Venezia vanta diverse riproduzioni nel mondo la più famosa è a Las Vegas dove sorge la strip la strada costellata di hotel e casino il The Venetian è forse uno dei più famosi in città ed è uno degli alberghi più grandi degli Stati Uniti l'hotel rigorosamente a 5 stelle è stato aperto nel 1999 e fra laghi artificiali canali gondolieri che cantano stornelli italiani nonché una riproduzione di San Marco e del Rialto vanta un'estensione di 11.000 metri quadrati e 4.000 stanze arredate in stile storico riproducendo l'arte veneziana da italiani possiamo storcere un po' il naso ma c'è chi giura che almeno per un istante si ha davvero l'impressione di trovarci in laguna un'altra finta Venezia la possiamo trovare a Dubai nel resort The Floating Venice un albergo extra lusso completamente galleggiante può ospitare 3.000 persone al giorno nelle sue 414 camere 12 ristoranti discoteche e negozi ma l'hotel non vuole solo riprodurre l'architettura di Venezia ma anche i suoi eventi di punta dal carnevale alla biennale d'arte anche se Venezia è così amata da essere addirittura riprodotta dobbiamo sempre ricordarci che è una città unica al mondo e che la sua specialità di essere costruita sull'acqua è anche la sua criticità poi vabbè ragazzi vi parleranno della Venezia della Cina della Venezia della Polonia e ogni paese ha un po' la sua Venezia ma Venezia è solo una la possono copiare quanto vogliono ma ce l'abbiamo solo noi e per proteggerla bisognerà intervenire quindi non solo sulla tutela dall'acqua alta implementando il MOSE ma anche sulla presenza dei turisti entrambi i problemi richiederanno soluzioni coraggiose e credo che nei prossimi anni il dibattito si farà sempre più acceso ringrazio Cristiana l'autrice di questo video e Rosa per il montaggio per chi volesse accedere a contenuto extra e finanziare questo progetto abbonatevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao